Oggi siamo con Alessandro Viola, Head of Corporate Sales di Nexi, con cui parliamo di abitudini di acquisto e omnicanalità. Come sono cambiate le abitudini di acquisto dei consumatori? Cosa aspettarsi? L'emergenza sanitaria che ci ha colpito ha avuto effetti molto importanti sui consumi, sulle abitudini di acquisto dei consumatori e sulle politiche distributive dei retailer. Se guardiamo più da vicino il nuovo consumatore, ci troviamo a una figura decisamente più digitale rispetto a quella di un anno fa, più propenso ad utilizzare una carta per effettuare gli acquisti all'interno di un punto di vendita, per questo i tassi di crescita del CILES si sono registrati con incrementi molto rilevanti. Ci troviamo di fronte a un consumatore molto più fluido nell'utilizzo di un'app per prenotare un servizio o per pagare un servizio o un bene all'interno di un punto di vendita. Anche in questo periodo infatti l'utilizzo di device mobili per effettuare i pagamenti all'interno del punto di vendita sono incrementati in modo molto rilevante. Oggi non usufruire di un sito e-commerce o di un'app per effettuare un acquisto potrebbe voler dire dedicare molto più tempo all'interno del punto di vendita o magari effettuare code in fase di check-in e di check-out del punto vendita stesso. Quello che ci si può aspettare per il futuro è che questa predisposizione verso le soluzioni digitale da parte del consumatore si consolidi sempre di più e si allinei a quella che è la media dei livelli europei. Quali sono gli elementi fondamentali per offrire e gestire un'esperienza omnicanale di pagamento di successo? L'omnicanalità è un esempio di come siano cambiate le nostre abitudini nel fare acquisti. Abitudini che hanno iniziato questo percorso di cambiamento già da qualche anno e che in questi ultimi mesi ha subito una grossa accelerazione. Se facciamo un tuffo nel passato, magari di 10-15 anni, ci rendiamo conto che chi acquistava online era considerato un consumatore evoluto che magari amava poco frequentare il punto vendita fisico. Oggi chi acquista online e chi acquista nel punto vendita fisico sono esattamente le stesse persone. Sono consumatori che amano iniziare una customer experience su un canale e terminarla su un'altra. Omnicanalità a me piace definirla come la possibilità di effettuare acquisti senza limiti di spazio e senza limiti temporali con la piena possibilità di seguire tutte le combinazioni di canale in modo continuativo e senza interruzioni. Per poter consentire un'esperienza omnicanale è necessario offrire soluzioni di pagamento ed accettazione car present e car no present con caratteristiche omni channel. Ad esempio lo smart post per poter effettuare un acquisto online sul punto di vendita, magari all'interno di un reparto di elettronica di consumo, mediante l'utilizzo della carta. un gateway di accettazione omni channel per rendere conciliabili transazioni commerce e transazioni car present e per rendere anche stornabili ambedue le tipologie di operazioni. Tutte queste nuove soluzioni sono soluzioni che Nexi è in grado di offrire ai suoi partner per rendere un'esperienza soluzione omnicanale senza limiti e senza frizioni.